Via Meucci, stabile ristrutturato nelle parti comuni, scala rifatta, tutti quanti gli infissi interni delle scale sono stati rifatti con doppio vetro, caldaia a condensazione con termovalvole. Ci troviamo al terzo piano senza l'ascensore, abbiamo una triple esposizione, 90 metri quadri e questo è il salone, salone con cucina a vista. Nell'appartamento sono state rifatte tutte quante le tapparelle, tutti quanti gli infissi esterni ed è stato ristrutturato completamente. Purtroppo oggi non è splendida, anzi non è per niente bella la giornata, però ha una vista molto particolare ed è luminosissimo. Troviamo anche le zanzariere su tutto quanto l'immobile, come vi dicevo parzializzatori con termovalvole, porta blindata di ultima generazione, citofono anch'esso appena sostituito. Disimpegno che ci conduce nella zona notte, questa è la prima camera da letto, camere molto molto ampie. Un lavoro importante che è stato fatto su tutte quante le pareti di confine è un isolante messo all'interno dell'intercappedine dei due muri, di modo da poter avere un immobile più caldo d'inverno e più fresco d'estate. Questa è l'esposizione che abbiamo dalla parte di via Meucci, ci troviamo le tende estive, tutti quanti gli infissi esterni sono con basi STAS. Questa è la seconda camera da letto, anch'essa di generose dimensioni, classico degli stabili anni 70. Quindi abbiamo tre balconi, due dalla parte dell'interno, da dove accediamo, e uno su via Meucci. Comodo l'ampio ripostiglio dal quale i proprietari hanno ricavato la zona lavanderia. Il bagno basca con il box doccia, lavandino e tutti quanti i sanitari. C'è un doppio termo arreda posizionato qua e ovviamente il termosifone. E questo è quanto.